Per i prodotti della pizzeria abbiamo chiesto aiuto alla pizzeria dei fratelli Capone, che ringraziamo. Poi dopo per i bambini ci sono stati donati, per i ragazzi ci sono stati donati del Babbo Natale da parte della Deco, che lo stesso ringraziamo. Ma poi ci siamo detti che sarà bello pranzare tutti insieme, ma ci vuole qualcuno che renda allegra questa giornata e a chi possiamo chiedere che possa aiutarci in questo pranzo da vivere insieme. Ho detto puntiamo a chi? Abbiamo puntato al meglio, abbiamo chiesto al top della nostra città. Ed ecco allora che gli amici della Curva hanno detto noi ci siamo, perché se stiamo insieme per la testa ci siamo. E tra poco assaggerete anche una cosa stupenda, che è la cassata o prontina, che hanno fatto gli amici dell'Albertino. Provo a dire io da dove nasce questa cassata. E sapete che ne abbiamo gli scavigli o pronti, se qualcuno di noi non c'è stato è bene che ci vaga. E lì ci sta anche, tra gli affreschi all'interno degli scavi, c'è anche questa dolce, questa torta. E loro hanno studiato un po' quali potevano essere gli ingredienti, gli alimenti di questa torta che viene rappresentata e che risale più di duemila anni fa. Ed ecco che l'Istituto Albertino...